Imbecille, che imbelle Siamo in linea? Siamo in diretta? Yuhuuu Salve a tutti ragazzi, siamo con un altro video di Fortnite Oggi con un'altra, alla fin fine, guida Mi sto dedicando più che altro a fare di tutorial, insomma, su queste sfide O almeno quelle che più che altro ne hanno bisogno Tipo quelle di oggi Le sfide di oggi saranno Trova Jonesy nelle foglie E poi cerca le lettere On Fa Nel secondo video, quindi nel video precedente Abbiamo completato la sfida Trova Jonesy Nascosto dietro una recinzione La sfida Trova Jonesy nelle foglie È la stessa Dobbiamo andare in una foglia solo Questa è l'unica differenza Però dobbiamo solo trovarlo E adesso c'è quello che faremo adesso Non so, volevo fare il thriller di Michael Jackson Aspettate un attimo Ma non abbiamo niente in mano Vogliamo passare questa parte qui Non mi sta venendo in uno Questa è la parte là del coso Dell'altra volta Dobbiamo buttarci qui Lasciatevi trasportare E arriveremo tranquillamente dove Desideriamo Ah ok, dobbiamo uscire No No raga, si è incastrato Meno male Ok, quelle ragioni Si, basta solo andarci vicino E poi basta Riuscite a completare la sfida No, vado lento Porca miseria Muoviti Cosa mi sposti Imbecille Che imbelle Ma porca miseria Io lo sapevo No, non dovevo saltare lì Oh, sbagliò sempre Vabbè, almeno sono riuscito ad arrivare in terza posizione Prima sfida Andata la grande Ora tocca la seconda sfida Che consiste nel trovare queste lettere Per formare On Fire Ok, abbiamo avuto Questo qui La ricompensa Ok, siamo qui con la prossima sfida È consigliabile andare piano Perché dobbiamo trovare tutte le lettere E ci sono dei posti a seguire Quindi andate piano Dunque Qui dove c'è il camion Questo qui C'è questo campo da basket Quindi dovete andare qui Ed ecco qui La prima lettera Beh Eh, pigliamela Mannaccia Maseri Ok Prima lettera Con un po' di fatica L'abbiamo presa Ora Sempre Andando piano Dobbiamo entrare Lì dentro Che è La metropolità Anche se Aspettate un attimo Forse ci conviene Ma non lo so Boh Proviamo ad andare da qui Perché qui c'è la prossima lettera Vabbè Me la prende comunque Anche se non l'ho fatta in ordine Vabbè Quella è la N Ah ma qui ti fa Comunque Io pensavo Fossero Così Vabbè Questa è la F Che se me la prendesse Magari Farebbe un grande favore Ok Grazie Andiamo Da qui Che questa è una Specie di Metropolitana Cavolo Andate piano Perché qui Dovete tenervi C'è la prossima lettera Lettera Ovvero La I Ok Ora Dovete Tenervi Sulla destra Al prossimo Incrocio Anche se non ci sono Incroci Attenzione Dovete andare Qui Ed ecco qui La vostra R E adesso Tocca l'ultima Lettera Che si troverà Esattamente Dopo aver saltato Tutte ste parti Andate piano Andate piano Da qui Perché lì Sta la E Ovvero L'ultima lettera E avrete Completato La vostra Bellissima Sfida Voilà Sfida completata Una gioia Per gli occhi Ecco qua Che abbiamo Completato La nostra Sesta Sfida Infatti questo è il terzo video Che faccio Su queste sfide Ed ecco qui Che abbiamo avuto Come Ricompensa Lo stile Per il nostro Backboard Coccola Le nostre due sfide Belle Completate Io spero Che questo video Vi sia stato D'aiuto Se così è stato Mettete un bel mi piace Commentate E iscrivetevi Se non è ancora fatto Vedete anche I video precedenti Se vi siete persi Insomma Qualche sfida Il precedente Che dire Buonanotte O buongiorno Vabbè Come una sorta Lo sapete